buongiorno sono debora magica benvenuti nel mio canale tempo fa avevamo affrontato un argomento che vi avevo promesso di approfondire e siccome ho ricevuto alcune richieste sul veric di instagram adesso vi specifico meglio di che cosa parliamo oggi oggi parliamo del metodo fly lady come potete notare oggi è una bellissima giornata non ci sono luci accese questa è luce naturale che entra dalle finestre ok andiamo avanti fly lady vi avevo già spiegato più o meno a grandi linee come funzionava il metodo fly lady è stato creato da questa signora americana marley siley che a un certo punto della sua vita con la casa straboccante di cose in disordine all'interno del quale non riusciva più a trovare neanche le cose necessarie si data delle priorità le priorità consistono fondamentalmente nell'organizzazione nella costanza e nel rendersi conto che se il disordine si è creato in anni non si può risolvere tutto in un giorno quindi la base di fly lady sono i baby step i baby step sono piccoli compiti quotidiani da ripetere ogni giorno per farli entrare nella abitudine nella routine stiamo creando delle routine il primo baby step dice in soldoni di liberare il lavandino della cucina lavare quant'altro ci sia appoggiato dentro e tutto quanto e fare brillare il lavandino cosa significa fare brillare un lavandino non significa per forza o dover utilizzare dei detersivi specifici o troppo aggressivi anche il detersivo dei piatti è più che sufficiente ve lo posso garantire quindi lavare tutte le stoviglie comunque spostarle dal lavandino non necessariamente bisogna lavare i piatti è perché per pulire il lavandino basta togliere le cose che ci sono dentro o sopra ok l'ideale sarebbe lavare anche i piatti le pentole tutto quello che si trova all'interno e sopra ok per pulire questo lavandino basta una spugna e del detersivo dei piatti comunissimo lo pulite bene passate le fessure fate come faccio io tenete da parte gli spazzolini esaussi quelli che non utilizzate più per il vostro splendido sorriso teneteli da parte in un contenitore in modo che non si possono mischiare con quelli per legge neurale in uso e con lo spazzolino andate un attimo a pulire in maniera un po più approfondita le guarnizioni o il contorno del lavandino e del robinetto vedrete che con una passata un po più energica e una bella asciugata alla cromatura e al lavandino e quant'altro vi troverete già in una situazione di benessere perché perché mette ansia il disordine il disordine crea ansia all'interno delle persone e confusione mentale alzarsi tutte le mattine trovando un lavandino sgombro pulito e senza mille cose dentro senza disordine intorno vi farà sentire meglio il primo baby step è sempre il lavandino della cucina e si inizia da lì mano a mano che i giorni passano si aggiunge qualche piccola goccettina in modo da poter cominciare ad avere anche una visione di insieme della casa allora partiamo sempre comunque dai baby step all'interno dei baby step poi vengono aggiunti dei dettagli un dettaglio una parola molto utile è hotspot che cos'è l'hotspot entrate in casa perfetto dove appoggiate le giacche le borse le scarpe la posta le chiavi disordine chiama disordine se una cosa è in disordine automaticamente in quel luogo si andranno accumulare altre cose che creeranno altro disordine quello è un hotspot gli hotspot come si affrontano con un timer a che serve il timer a darsi una limite cos'è che ci mette più ansia vediamo tutto questo casino in giro e non sappiamo da che parte iniziare a botte di cinque minuti o due minuti addirittura il classico timer quello che si trova all'ikea o quello che si usa per diciamo per ricordarci che abbiamo la roba in forno perché sennò brucia ecco quel timer lì utilizzate timer manuali non usate il timer del cellulare perché il cellulare è una fonte enorme di distrazione provate quelli manuali i classici che fanno ecco quelli vanno bene ok dopodiché affrontate questo hotspot a botte di due minuti 5 minuti alla volta in modo che potete mantenere il focus la concentrazione su quello che state facendo è molto importante questo perché soprattutto quando c'è tanto disordine e tante situazioni diciamo fuori controllo mettiamola così vedere tante cose in disordine ci fa venire un attimo di smarrimento concentratevi due minuti c'è quella cosa lì devo mettere a posto le scarpe bene le pulisco le metto via devo mettere a posto le giacche bene le metto sulle metto le metto dove hanno un posto il posto non è sulla sedia il posto non è sul divano il posto non è in anticamera abbandonate il posto non è quello troviamo un posto alle cose ok questa è l'hot spot che all'interno dei baby step regolarmente ogni giorno vi verrà proposto un hotspot al mattino un hotspot alla sera di affrontare cinque minuti uno spot al mattino cinque minuti un otto spot alla sera vedrete il cambiamento della vostra casa lo vedrete con i vostri occhi un'altra cosa molto interessante di fly lady è che fly lady non vede le pulizie di casa come un obbligo o come oddio devo pulire che ansia no fly lady dice e ripeto casino non si è fatto in un giorno in un giorno non si risolve il casino si risolve a botte di cinque dieci quindici minuti di hotspot con altri tipi di strategie che vi spiegherò dopo ma in un giorno non potete fare la maratona per sistemare tutto quindi che cosa significa intanto cominciamo a levare quello che non ci deve essere cioè la spazzatura ragazzi è la cosa più facile del mondo prendete classico sacchettino la spazzatura e ve lo legate qua se siete destre come me se siete mancine al contrario ve lo legate ca oppure alla cinta o al grembiule o come siete comode e girate per casa alla ricerca disperata di 27 cose da buttare pezzi di carta fazzoletti di carta abbandonate pubblicità abbandonata sulla console dell'anticamera volantini che non userete mai buste vuote tutto quello che fa disordine e che non vi serve e che è da buttare ne avete trovati 27 perfetto per oggi siamo se ne trovate anche di più meglio e non c'è problema non è che proprio bisogna essere fiscali però impegniamoci per arrivare a buttare 27 cose ogni giorno perché tutte quelle cose che voi buttate e che state facendo con il timer dei cinque minuti si chiama il 27 fly buggy volando ballando il buggy buttando la spazzatura ne avete trovati 27 benissimo chiudete sacchetto scarpe i piedi giù a buttare la spazzatura subito prima che ci ripensate buttate subito quel sacchetto non tenetele in casa non mettetelo sul balcone non c'è alla fine se non sarebbe spostare di qua e di là alla fine diventerebbe una spazzatura itinerante per la vostra casa e quale sarebbe l'utilità nessuna buttatelo subito un'altra cosa molto importante che serve anche per l'organizzazione familiare è la programmazione settimanale del menù allora chi ha bambini che hanno a scuola possono tranquillamente scaricare dai siti appositi il menù settimanale che viene proposto alle scuole quando i bambini sono a scuola e mangiano a scuola in modo da non ripetere la stessa cosa alla sera cioè se a pranzo i nostri figli mangiano i gnocchi e il pomodoro magari non rifacciamo gli occhi pomodoro alla sera questo ci serve per poter non essere ripetitivi impostare un menù sulle quattro o meglio ancora cinque settimane ci sono mesi da cinque settimane mesi da quattro ok impostarli in base le abitudini familiari se siamo tutti fuori di casa pranzo da lunedì al venerdì il menù settimanale della settimana da lunedì al venerdì sarà solo serale e poi ci sarà quello del sabato della domenica se invece si lavora su turni si lavora su sette giorni e si ha una vita organizzata diversamente ovviamente il menù deve essere organizzato diversamente in base alle necessità familiari andiamo oltre fly lady propone la divisione della casa in zone che cosa sono le zone le zone sono le stanze semplicemente il bagno la cucina le camere da letto la stanza hobby il soggiorno l'ingresso per chi ha la veranda c'è anche la veranda quindi ci saranno dei mesi in cui fly lady vi proporrà ogni mese una missione questo perché perché dopo aver finito il percorso dei baby step vi verrà inviata se fate l'escrizione sul sito di fly lady italia su internet vi verrà inviata una mail quotidiana in quella mail ci sarà descritta diciamo la routine che dovreste aver consolidato già con i baby step e le missioni del giorno le missioni che cosa significa per esempio questa settimana siamo nella zona cucina perfetto ogni giorno fly lady vi farà il promemoria del tipo stacca le tende e lava le ok tanto per dire non vi farà mai fare la maratona di new york per fare i lavori non vi proporrà mai un impegno che possa essere superiore a un'ora di tempo del vostro tempo più di un'ora non si fa e vi spiego perché perché cala la concentrazione cala la motivazione la stanchezza magari lavoriamo arriviamo a casa che siamo già stanchi non si può pretendere da una persona di lavorare in maniera continuata intensiva per più di un'ora su qualcosa che magari le crea stress o le crea fastidio il lavoro purtroppo non lo possiamo gestire diversamente perché quello non dipende da noi ok ma come la nostra organizzazione familiare questo dipende da noi attenzione dopodiché fly lady da diciamo dei consigli generali molto utili quindi per esempio al di là della pulizia del lavello che cosa si può fare intanto non dobbiamo essere schiavi della casa schiavi schiave vale sia per i uomini che per le donne non siamo più nel medioevo quindi parlo in generale ovviamente non dobbiamo essere schiavi della casa quindi innanzitutto dobbiamo volerci bene volerci bene mi alzo anche se devo stare in casa solo a pulire mi avvesto mi metto le scarpe ragazzi le scarpe sempre le scarpe in casa scegliete in un paio comode per stare in casa se dovete fare un blitz fuori le avrete già ai piedi tanto per andare a buttare la spazzatura dico la scemenza ma immaginate di salire su una scala per fare anche semplicemente riporre una scatola dentro nell'armadio con le ciabatte non è assolutamente con le pantofole men che meno non hanno la struttura per potervi garantire la sicurezza in salita e in discesa sempre le scarpe con i lacci sarebbe meglio con i lacci se preferite il velcro va bene anche il velcro insomma come siete comode ma la scarpa vi dà una garanzia di sicurezza in caso di scale magari avete le scale in casa e salire e scendere le scale con le ciabatte o con le pantofole insomma diciamo che sono meno sicuri i nostri piedi nell'appoggio e quindi anche la nostra sicurezza diminuisce andiamo avanti ci vediamo bene ci vestiamo ci trucchiamo ci pettiniamo ci mettiamo carine suona il citofono arriva il corriere arriva il postino arriva qualunque persona certo non è che dobbiamo farci trovare insomma ordinate ci guardiamo lo specchio diciamo però eh non sono tutte in disordine i capelli sono in ordine un filo di trucco eh vestita in ordine non è che dobbiamo stare in casa per forza in pigiama ci possiamo anche mettere qualcos'altro ed è molto molto gratificante per l'ego personale aiuta a stare bene con noi stessi prima ancora di sistemare la casa dobbiamo sistemare il nostro stato d'animo che è la cosa più importante andiamo oltre si creano le routine con i baby step facendo un passettino alla volta consolidando i passettini giorno per giorno affrontando gli disordini 5 minuti alla volta con gli hot spot con il 27 fly boogie ok consolidiamo le routine cosa serve consolidare le routine c'è una cosa fuori posto la prendo la metto subito al su posto ok piano piano inoltre bisogna ricordarsi una cosa molto importante nel momento in cui noi decidiamo di investire 5 minuti 3 minuti 2 minuti 1 ora per fare un lavoro per iniziarlo e finirlo non tirate mai fuori dall'armadio una quantità di roba così esagerata da non essere in grado di metterla in ordine entro e non oltre 1 ora perché dopo vi crolla l'adrenalina vi crolla l'impegno vi demoralizzate non va bene mai oltre 1 ora quindi non tirate fuori tutto l'armadio un cassetto alla volta un'anta alla volta un cassetto alla volta un cassetto al giorno in un mese sono 30 cassetti fate questo ragionamento guardate nella costanza guardate nel lungo periodo ripeto il casino in un giorno non si risolve ci vuole tempo pazienza costanza e vedrete che con questo sistema riuscirete a vedere anche un enorme miglioramento anche a livello familiare piano piano anche i vostri familiari vi seguiranno in questa avventura non obbligateli proponete mostrate perché a volte quello che conta di più è l'esempio fai una cosa tu la fai gli altri vedono il risultato e magari gli piace tra l'altro nelle emissioni di flylady che si ricevono via mail una volta consolidati i playby step ci sono anche le emissioni per i figli e le emissioni per i figli vi posso garantire che sono molto divertenti molto stimolanti si possono concludere nel giro di 10 minuti facendo divertire anche i bambini e in questo modo mostriamo ai nostri figli che l'ordine e la pulizia ci permette di vivere nel nostro ambiente in maniera più serena trovare le cose che noi desideriamo trovare e ci dà la possibilità di per quanto riguarda i bambini ovviamente di giocare con qualcosa che veramente gli interessa e poi vi spiego in che senso un'altra cosa molto importante una cosa alla volta non mettete in piedi due cantieri cioè nel senso non iniziate a pulire la cucina e intanto che asciuga il pavimento della cucina correte in bagno a fare altro fate il bagno finitelo avete fatto il bagno a posto ok 5 minuti di pausa vi prendete un caffè vi prendete un tè fate una telefonata a un'amica guardate 10 minuti la televisione prendetevi le pause anche le pause servono servono a ricaricare le batterie ad azzerare un attimo il cervello come dico io servono anche le pause non si può lavorare non stop 8-10 ore pensando di risolvere il problema perché poi due giorni dopo il casino riesploderà di nuovo se non buttate via le cose che dovete buttare via se non donate le cose che non usate più e non vi servono se non organizzate le cose in maniera diversa ok andiamo avanti allora un altro suggerimento molto importante di fly lady e lo ripeto forse per la terza quarta volta in questo video è coccolatevi cosa significa coccolarsi parlo come una donna per me coccolarmi per esempio finita la giornata di lavoro finito di cenare sistemata la cucina messo a letto mio figlio tutto quanto per me il mio momento di coccola è una bella doccia calda rilassante prima di andare a dormire vi faccio l'esempio mio ma ognuno poi avrà la sua di coccola voi non ci crederete ma io sto guardando il gatto che sta cercando di arrampicarsi sulla porta chiusa perché non è abituata che io chiudo la porta e si starrebbe vabbè ad ogni modo andiamo avanti la coccola è spalmarsi una crema idratante lasciare in posa sui capelli una maschera oppure sul viso semplicemente mettere uno smalto alle unghie una coccola a volte è mettersi sul divano a guardare un film magari non lo guarderete tutto però la sensazione di relax e di dire ho fatto tutto quello che dovevo fare per oggi pace stop è fondamentale perché non siamo macchine siamo persone dobbiamo avere il nostro reset quotidiano ricordatevi di queste cose ricordatevi che abbiamo bisogno anche noi tutti noi del nostro momento di pace i problemi arrivano dal lavoro dalla famiglia i bambini la casa tutto assieme troppo rumore una cosa alla volta fate come provo a fare io ogni giorno fate una cosa fatta bene iniziata e finita al giorno ho un problema per esempio non so devo andare a pagare una bolletta ok vai la paghi basta finito devo fare la telefonata a quella persona sapendo che magari quella persona è piuttosto polemica o piuttosto complicato gestire una certa situazione che poi sia personale o lavorativa non cambia alla fine se le situazioni sono complicate sono complicate a frescindere perché continuare a rimandare falla falla quella telefonata l'hai fatta basta ti sei tolto il pensiero alleggerisci respiri finalmente dici ho fatto questa cosa l'ho risolta il senso di soddisfazione e di pace nel risolvere un problema al giorno ok è fantastico se sempre di corsa devo andare a fare la spesa no oggi non vado no vado domani no vado dopo domani rimando e non riesco a organizzare il menù perché non riesco a organizzarmi e andare a fare la spesa allora cosa faccio prende il menù per esempio dei nostri figli quello che mangiano loro settimanalmente o mensilmente io ho il piano di mio figlio ce l'ho mensile e ce l'ho attaccato sul frigorifero in base a quello che lui mangia a mezzogiorno io cucino alla sera in questo modo ho la possibilità di organizzare non solo la settimana il mese in modo che potete fare una spesa mensile delle cose a lunga conservazione lo scatolame la passata di pomodoro la pasta voglio dire la potete comprare magari una volta soltanto al mese e settimanalmente fare la spesa dei freschi frutta verdura yogurt formaggi cose che possono essere gestite nell'ambito dei sette giorni ma bisogna farle queste cose bisogna perdere quei 20 minuti di mettersi lì guardare cosa mangiano loro in settimana e organizzare l'alternativa alla sera l'alternativa non significa se è al ristorante l'alternativa significa che se a mezzogiorno hai mangiato la pasta al pomodoro e il petto di pollo con le verdure magari la sera faccio qualcos'altro non ti ripropongo sempre le stesse cose ma una scelta non siamo al ristorante a meno che non ci siano delle problematiche di salute e non complicate la vita facendo 50 tipi diversi di mangiare cercate di non farvi boicottare nel senso voi avete deciso e avete già ingredienti per esempio per fare non so le penne trecolore dico un cibo anche facile voglio dire non vi fate boicottare a meno che non ci siano motivi di salute non fatevi boicottare date una regola in questo modo saprete sempre quello che dovete fare sapete cosa dovete tirare fuori dal freezer sapete cosa dovete acquistare quando andate a fare la spesa perché siete organizzate tutto questo vi sembrerà enorme raccontato in 20 minuti di questo video cominciate con i baby step iscrivetevi sul sito di Fley in Italia riceverete l'elenco dei baby step arrivate alla fine dei baby step non abbiate paura se un giorno non ce la fate e saltate non succede niente però se volete raggiungere il vostro obiettivo cercate di mantenere una certa regolarità poco ma tutti i giorni tutti i giorni buttate via la spazzatura tutti i giorni buttate via la roba che non vi serve in giro per casa tutti i giorni pulite un cassetto tirate via liberatevi di uno spot tutti i giorni lasciate il lavandino pulito tutti i giorni se riuscite fate una lavatrice se ne avete necessità così non arrivate il sabato o la domenica che avete i panni che vi passano sopra la testa poi se c'è la collaborazione anche all'interno della famiglia benvenga se non avete questo privilegio come molte persone non hanno organizzatevi un poco alla volta cercate di capire che la casa non deve essere fonte di stress la pace deve essere la casa deve essere il vostro rifugio il vostro momento di pace ci sono delle cose da fare si fanno 5 minuti alla volta allora io vi saluto come Deborah Magica se vi piacciono i miei video mettete un pollice in su per supportare il mio canale iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video motivazionali e un'altra cosa importante iscrivetevi al canale di Fly Lady vi potrà essere molto molto utile soprattutto quando poi come in questi periodi c'è un po' la necessità un po' diciamo l'obbligo non è la parola giusta ma non me ne viene una migliore di stare in casa perché non si hanno molte possibilità di uscire visto le situazioni e le contingenze avere un'organizzazione che vi permette di vivere al meglio più serenamente il vostro ambiente familiare questa è una grandissima bella cosa un pezzettino alla volta però non tutto in un giorno vi mando tanti baci e ci vediamo al prossimo video ciao da Deborah Magica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti